Oggi ci serviva un risultato pieno per sicuramente migliorare la classifica ma soprattutto per migliorare la nostra condizione psicologica che comunque quando vieni da questi periodi sei magari un pochettino frenato, giochi con un po' di paura. Io ho chiesto ai ragazzi di venire a Ischia a giocarci la partita senza paure, con coraggio, rispettando un avversario con grande qualità, secondo me soprattutto davanti, però preparandola come l'abbiamo fatta, ripartendo in velocità e andando ad attaccare lo spazio e buttarci dentro da palle esterne, l'hanno fatto bene. Complimenti ai ragazzi, tutti quanti veramente che hanno voluto questa vittoria in un campo comunque difficile. Il 2-0 secondo me ha tagliato le gambe a Ischia. Abbiamo chiuso la prima frazione 2-0 con altre possibilità di far gol, anche al secondo tempo ci siamo difesi abbastanza alti, quindi ho chiesto ai ragazzi al primo e al secondo tempo di non abbassarci, di non abbassarci perché comunque loro hanno giocato la skater, Cruz, giocatori comunque bravi nell'uno contro uno, sovrapposizioni che mi aspettavo continue, quindi gran lavoro da parte degli attaccanti, chi ha giocato all'inizio, chi è subentrato, grande lavoro dei centrocampisti, grande lavoro della difesa. Quindi detto questo ci godiamo questa vittoria, il cammino è lungo e duro, però noi avevamo bisogno, ripeto, di una vittoria per sbloccarci all'euro psicologico. Nella parte bassa della classifica la Paganese allunga un po', però i due tronconi restano ben chiari. Sicuramente ci sono delle squadre in questo momento del campionato che nella parte alta che si giocano per i pre-off, per le prime posizioni, in basso c'è staccato un pochettino un gruppone di squadre che lotta per uscire fuori, stare fuori dalla zona pericolosa. Ecco perché dicevo prima che noi ci godiamo questa vittoria, ma dobbiamo essere consapevoli che deve essere una di tante vittorie, perché comunque dobbiamo giocare con questo piglio, dobbiamo giocare con questa attenzione, questo vigore agonistico. Noi non possiamo prescindere da queste qualità, da queste caratteristiche, noi dobbiamo andare a lottare su ogni pallone. Deve essere l'inizio di un cammino che non deve vederci solamente questa vittoria esporadica, ma dobbiamo dare continuità prima di prestazione con questa mentalità e poi di punti.